Sono Donato Sisti, insegnante della scuola secondaria di primo grado di Masate. Anche quest'anno abbiamo aderito al progetto Solo in classe e con gli alunni delle classi terzi abbiamo incontrato il nostro sindaco, durante questo incontro sono stati affrontati temi di tutela ambientale, risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili. È stato pubblicato su un giornale locale un articolo proprio relativo a questo incontro e nel secondo quadrimestre ci sarà un nuovo evento durante il quale i ragazzi proporranno le loro idee green all'amministrazione per il nostro territorio. Ringraziamo tanto Hunter per l'opportunità che ci ha concesso e vi invito a votarci perché abbiamo intenzione di destinare un eventuale premio per l'acquisto di ausili didattici per ragazzi diversamente di anni. Grazie. Ringrazio la preside, i professori e soprattutto i ragazzi per questa straordinaria esperienza che abbiamo condiviso. Vi invito a votare l'Istituto Martin Luther King di Masate.